Il governo italiano ha scelto Brindisi come sede della prima cena che si terrà il 13 giugno nel Castello Svevo dei leader mondiali che saranno in Puglia per il G7 e alla quale parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'importante novità per il territorio in vista del vertice è stata data con particolare soddisfazione dall'Onorevole di Forza Italia Mauro Dattis che così commenta ad Antenna Sud. È stato anche emozionante comunicarlo perché potete immaginare l'idea di avere a cena Biden, Macron e il nostro Presidente Mattarella e il Presidente Meloni a Brindisi nella location del Castello Svevo il 13 giugno in occasione del G7 mondiale. Io credo che sia uno degli eventi storici più importanti della storia della nostra città. Insomma una location particolare è il Castello Svevo per scrivere una pagina di storia internazionale pugliese ma soprattutto in questo caso Brindisina. Non è una vetrina normale, non è il solito vertice, questo è l'incontro dei leader mondiali in un momento particolare nel mondo. Brindisi al centro dell'attenzione mondiale rappresenta una circostanza non solo di per sé di straordinaria importanza ma anche un focus mondiale sul nostro territorio. Ha commentato così la notizia il Presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis da ciò ospichiamo possano essere favorite oltre alla crescita di flussi turistici anche attenzione ed approfondimenti da parte della business community propedeutica di investimenti e a nuove iniziative imprenditoriali. Ha concluso.